ossigeno allora intanto togliamo l'accendino perché è vicino ai boom boom 170 meglio che di no tagliarino vediamo intanto le specifiche pesano una cifra costano anche una cifra 170 limited categoria f4 100 g l'1 e andiamo con l'unboxing scarta la carta me ne accendini facci sognare un saluto al mitico si presentano così dunque la miccia di qua sono belli grossi pesano una cifra dietro scritte polacche non so perché si muove la m100 meglio non muoverla pesa una cifra pesa una cifra sono grosse come sotto c'è tipo vino vini avano mi chiedete bella la miccia potrebbe essere anche delle migliori si muove sempre la polvere cioè la paura con sta polvere ecco qua questi qua hanno 100 g non so dove ve lo faccio leggere il necce il necce il necce troppo 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 ok e se la giro aspetta vi faccio sentire ecco questa qua non so se si sentirà mai ma non credo e si presentano così pesano un sacco e costano anche una cifra ecco qua questi qua 100 g categoria f4 e ci stanno buona fattura secondo me sono meglio dei cobra 8 secondo secondo me hg h e quadro pro spaccim